Con enorme piacere ho vicino a me Morena Rapolla. Morena ha fatto un intervento eccezionale, devo dire che mi ha emozionato, mi ha entusiasmato e l'ho sentito a metà, però io vorrei farti conoscere al pubblico un po' la tua storia. Allora, buongiorno, salve, sono Morena Rapolla, sono un avvocato, sono componente del Dipartimento Persone e Tutela dei Diritti Umani della Fondazione Aega Tommaso Bucciarelli, diretta dall'amica e collega Ivana Pipponzi. Sono venuta oggi qui nella splendida cornice di Tropea, a Capo Vaticano, per questa giornata dove tutta la Calabria, una terra meravigliosa che io amo, dice un secco basta, un no ad ogni forma di discriminazione. Quindi oggi è un giorno di festa, una sorta di festa dei diritti, festa dei diritti civili che riguarda tutti, deve riguardare tutti, perché i diritti civili come categoria dei diritti umani riguardano appunto tutti gli individui. I diritti umani siamo noi, quindi tutti quanti noi, a prescindere dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, siamo chiamati ogni giorno a farci carico e a proteggere ciascuno nel suo, io come avvocato, altri professionisti nel loro ruolo, ma anche il cittadino semplice, è chiamato appunto a proteggere questo nucleo indifettibile dei diritti umani e dei diritti civili, che rappresentano proprio il baluardo, il fondamento di ogni corretta interazione e rapporto del vivere civile, quindi di una società che voglia continuare a freggiarsi dell'aggettivo civile. Purtroppo gli episodi di cronaca ci consegnano a volte degli scenari che di civile hanno ben poco, quindi oggi siamo qui per dire un secco bassa a tutto questo. Il passaggio che mi è piaciuto nel tuo discorso, quando hai detto che non bisogna dare un merito a chi ha fatto il fattaccio, ma bensì il merito va ai calabresi che hanno organizzato questa cosa insieme agli organizzatori di questa bellissima idea e manifestazione che è la partecipazione di tutte le autorità. Perciò questo è stato un bel complimento, perché un po' tutti miravano prima, dare proprio il premio a chi ha portato un fatto di cronaca, non deve essere così. Il triste episodio che si è consumato nell'estate del 2017, che è passato alla cronaca purtroppo, è appunto quello relativo ai due ragazzi napoletani che erano venuti qui in Calabria per fare le vacanze e una persona, un albergatore, un affittacamere, ha detto che non accettavano gay e animali. Anche questo avvicinamento a queste due categorie lo trovo molto triste. Allora, diciamo subito che questo episodio è deprecabile, perché le persone omosessuali, le persone LGBT sono persone che sono cittadini di serie A come tutti quanti gli altri, pagano le tasse, si rapportano nella quotidianità in maniera retta, corretta e quindi come tale hanno uguali diritti, quindi anche quello a usufruire di un fittacamere, di un albergo e di qualunque altra cosa sia, perché altrimenti si genera quella che nell'ordinamento giuridico si chiama una discriminazione diretta. Un esempio, se un bar appende all'esterno il cartello, quindi un'attività pubblica, appende all'esterno un cartello dove c'è scritto evitato l'ingresso alle persone di colore o agli handicappati diversamente abili, quella è una discriminazione diretta che l'ordinamento giuridico sanziona il giudice in sede civile, si può dire il giudice civile, che può rimuovere subito l'origine di quella discriminazione e si può fino anche chiedere il risarcimento del danno. Quindi non si tratta di essere liberi o meno di fare entrare a casa propria, come ho letto in alcune parti, in alcuni commenti, no, se io pongo in essere un'attività rivolta al pubblico, suscettibile di un apprezzamento di natura economica e quindi io ci traggo profitto, non posso dire tu sì e tu no, perché altrimenti do origine a un'illegittima discriminazione che l'ordinamento giuridico condanna e sanziona. Dovrebbero essere più pesante un po' le leggi sulla discriminazione? Ma io, allora, sicuramente spero che presto il nostro Parlamento dia vita alla così tanto agognata legge nazionale sull'omofobia e la transfobia. Ci sono dei testi che sono arenati ormai in Senato anche da tanti anni. Io sono del parere che una tutela maggiorata verso questi fenomeni legati all'omofobia e alla transfobia, fenomeni che, guardate, lo dicevamo stamattina proprio con l'amico Antonello Sannino, il presidente di Arcigai Napoli, che... Ho già sentito, è una persona eccezionale, insomma, è un'altra persona molto carismatica. Si è subito attivato e dico di più, Antonello adesso sta ospitando a casa sua due ragazzi gay di Napoli che sono stati messi fuori di casa dei genitori semplicemente perché innamorati l'uno dell'altro. Quindi questo è da apprezzare perché questo è l'associazionismo attivo e valido. Una legge nazionale sull'omofobia e transfobia sarebbe auspicabile. La risposta sanzionatoria dell'ordinamento giuridico deve essere forte, però io credo anche che la sanzione, la punizione ha un valore ma fino a un certo punto perché purtroppo per quanto possiamo punire gli omofobi alla fine potremmo ottenere una sorta di effetto opposto. Quindi io credo che bisogna incidere sull'educazione delle persone, soprattutto nelle scuole. Le scuole rappresentano il vivaio della civiltà. I ragazzi sono un inestimabile valore che noi dobbiamo educare. Educare al valore della diversità. Prima sentivo parlare di qualcuno che dice la diversità non esiste, siamo tutti uguali. Guai a voler neutralizzare la diversità. La diversità c'è, la diversità è un valore. come dire ricco per me perché diverso da me. Dobbiamo solo affrancare il concetto di diverso da quella maledetta lettera scarlatta di negatività che qualcuno gli ha messo su. Una volta che noi ci avvicineremo senza pregiudizi, inizieremo a far erodere anche gli stereotipi che purtroppo ancora emergono nella società, anche nei mass media, nella comunicazione purtroppo e ci avvicineremo al diverso e lo vedremo come un momento di straordinario arricchimento. Una cosa che voglio dirti, insomma, diciamo la verità, insomma, tu hai fatto un passaggio nella tua vita. Mi è piaciuto questo passaggio anche che hai fatto nel discorso nel momento della tua laurea. Ce lo puoi raccontare ai nostri telespettatori? Sì. Allora, c'è stato, ero a un convegno e mi occupo di formazione. Era un convegno e in pratica alla fine si è aperto il dibattito. Parlavamo appunto di discriminazione, eccetera. Quindi nel mio intervento parlavo proprio del fatto che le discriminazioni oggi sono diventate sempre più striscianti, più sofisticate e quindi molte volte le discriminazioni sono proprio difficili da individuare. Chi è vittima di discriminazione molte volte non se ne rende nemmeno conto che potrebbe adire le autorità. E quindi dicevo questo, insomma, che bisogna perfezionarsi ciascuno nel proprio ruolo. Anche gli avvocati devono essere formati in maniera valida per poter rispondere in maniera efficace alle istanze di tutela di chi viene discriminato. E alla fine una persona appartenente a ambienti politici molto estremi intervenne in maniera molto così, quasi innocente direi, diciamo così, disse ma scusa perché parli tu di discriminazione se alla fine ti hanno permesso anche di laurearti e di diventare avvocato. Pensate all'interno di un dibattito finale. Io devo dire la verità, ho dovuto... Tu come hai risposto, scusa? Non ricordo bene la risposta, perché in quel momento veramente mi si è... sono un essere umano, alla fine è difficile anche mantenere le emozioni, lo sdegno, anche la rabbia... lo sdegno, ecco. Devo dire la verità, mi ha molto amareggiato quella cosa, però poi alla fine ricordo che in un passaggio di quello che risposi, dissi nessuno mi ha dato il privilegio di laurearmi, mi sono laureata, quando mi sono laureata era ancora Piero nel mio percorso di vita e io devo dire grazie a quel ragazzo che sono stato fino ai 27... Chi era Piero? Piero era un ragazzo bellissimo innanzitutto e io oggi, dico sempre, Piero e Morena si sono scambiati il testimonial, fino a 28 anni c'era Piero che aveva nel cuore Morena, poi dai 28 anni in poi Morena, come un fiume in piena, è voluta uscire dal cuore di Piero e si sono scambiati i ruoli. Io consiglio a tutto, lo dico sempre, a tutte le ragazze transessuali che fanno questo percorso, non abbiurate mai quello che siete stati, il ragazzo che siete stati, perché lo dico sempre, se non fosse stato per l'altra parte di me, quel ragazzo, Piero, che ha studiato, sudato e sognato insieme a me e per me, oggi Morena non sarebbe la professionista e quella che sono. Quindi tenetevi stretto il vostro passato, amici, amiche transessuali, perché è quello il vostro punto di forza, senza rimanerci arenate, però custodite in maniera affettuosa, perché altrimenti vedo tante ragazze transessuali arrabbiate con la vita e non è un bel segnale, perché vi dovete e ci dobbiamo tanta felicità. Abbiamo fatto maciullare il nostro corpo dai bisturi, siamo ricorsi ai bisturi affinché riplasmassero il nostro corpo per poter somigliare il più possibile al sogno di noi stessi. E quando ci arriviamo dobbiamo accoglierci con un sorriso anche per quello che eravamo. Massimo, Massimo si chiama lui, no? Il presidente del CIGA in Napoli. Antonello, scusami. Antonello, prima mi dicevi che io ospita, l'ho detto prima anche nella mia intervista, due ragazzi gay nella sua casa perché i genitori non l'hanno accettato. Ti voglio fare questa domanda. Tu hai avuto anche un passaggio. Come si sono comportati i tuoi genitori e come si dovrebbero comportare i genitori in un momento che si scopre che nella famiglia c'è un figlio gay, che non è una malattia? Allora, voglio essere sincera. Per quanto mi riguarda, mia madre e mio fratello l'ha preso abbastanza bene. Mio padre non tanto. Con gli anni poi piano piano, piano piano, mio padre ha imparato ad accettare e apprezzare quella che sono oggi. Vedi, io credo che non esista un decalogo del bravo genitore. Così come molti dicono, no vabbè, ma magari un padre maschilista legato a un retaggio culturale un po' antico, legato a forme di macismo, è difficile. Va capito. Allora io credo che alla fine il genitore che non ti capisce, non ti comprende, non ne faccia una questione di accettazione. Quanto è brutta la parola mi sento accettata. Quanto è brutta. Io penso che i figli non vadano accettati, i figli vadano amati incondizionatamente. Chi non riesce a comprendere la difficoltà, perché ricordo che quando dissi a mia madre e mio padre all'epoca, quando avevo 18-19 anni, pensavo di essere semplicemente omosessuale, poi mi sono accorta che invece il mio corpo non rispecchiava la mia anima, dissi papà, mamma, io sono omosessuale. La mia era una disperata richiesta di aiuto. Quando i vostri figli vi raccontano qualcosa di così intimo e personale, non vi stanno dicendo mamma, sono omosessuale, oppure mamma, sono transessuale, voglio fare la transizione da un sesso a un altro, non lo fanno perché vogliono imporsi, oppure vogliono violentare una cultura, o vogliono portare, mettere una famiglia a suo quadro. Signori, se qualcuno decide di farsi maciullare chirurgicamente, psicologicamente, un iter così stringente come quello del cambio di sesso, perizie medico-psicologiche, eccetera, non pensate che sarebbe stato tutto più facile per me rimanere omosessuale, per rimanere nel corpo maschile, se veramente la vita mi avesse concesso margini di scelta. Qualcuno mi dice, la tua è stata una scelta coraggiosa, io dico no, io non ho avuto margini di scelta. O lo facevo, oppure la vita mi ha messo di spalle al muro, ha detto che vuoi fare, vuoi essere felice, così non lo puoi essere. Quindi io o mi autodistruggevo, purtroppo ci sono molti ragazzi transessuali, anche ragazzi omosessuali non accettati, che vivono ai margini, vengono ritrovati, magari uccisi, violentati. Io mi chiedo, voi famiglie, anziché dover convivere con un rimorso di coscienza, che poi vi viene sempre dopo il rigurgito della coscienza, vi ricordate dopo di aver messo al mondo un figlio che era comunque vostro figlio e che amavate, non sarebbe più facile riavvolgere il nastro e fare in modo di abbracciare e proteggere vostro figlio che vi ha raccontato di essere omosessuale, prima di darlo in pasto ad un mondo pesce vorace che non aspetta altro che chiamarlo ricchione, riempirlo di botte o magari ucciderlo in un cassonetto. Non pensate che sarebbe così semplice. Mia nonna aveva 90 anni. Mia nonna ha assistito alla mia transizione nella parte iniziale. Mia nonna aveva capito. Ricordo che la mamma di mia madre, nonna Nuccia, aveva 90 anni e mi disse a nonna, mi raccomando, non lasciare mai sola mamma, ragion per cui io vivo con mia madre, ed è il mio punto di riferimento, il mio amore più grande. Io mi sono avvinghiata all'amore che mia madre sentiva per me. L'amore ci guida, l'amore ci salva. Io se mia madre non mi avesse amata a prescindere da quello che volevo essere, sono diventata, sicuramente forse mi sarei buttata via. Perché chi fa certi percorsi alla fine viene anche bombardata da stereotipi, beceri, quali se diventi transessuali devi fare per forza la prostituta. Insomma, stereotipi che piano piano, per fortuna, si stanno involvendo. Ci sono ragazze transessuali che studiano, che coltivano una professione. Tante ragazze transessuali che sono anche uscite dal giro della prostituzione. Quindi chi abbraccia questo percorso? Ricordo mia nonna, mi disse a nonna, mi raccomando, a prescindere da quello che vuoi essere, devi essere felice. prenditi la laurea, era il 2005, mi sono laureata nel 2007, mi raccomando, fallo per mamma. E io ricordo sempre, come un faro di luce, queste parole di mia nonna. Non importa se non avevi documenti al femminile e se quando mi sono laureata con queste sembianze, perché all'epoca non esisteva il doppio libretto universitario come oggi con l'alias, io sui documenti ero Pietro Rapolla. Ricordo che quando mi laureai avevo questo aspetto e mi chiamarono giustamente Pietro Rapolla, la nominiamo dottore in giurisprudenza con la votazione di 108 su 110 vecchio ordinamento. Per me è stata un'emozione grandissima. E lì ricordo l'abbraccio di mamma quel giorno e il mio abbraccio, come se l'avessi restituito la milionesima parte di quel debito d'amore che ho con lei. Adesso Morena, è giusto? Morena, sì. Anche per lo Stato italiano. No, no, l'ho fatta apposta. Chi è Morena adesso? Hai raggiunto i tuoi obiettivi, sicuramente sì. E la tua professione? La mia professione? Io sono innamorata della mia professione. Faccio l'avvocato a tempo pieno, lavoro in uno studio professionale meraviglioso, uno dei più grandi di potenza, che è lo studio legale dell'amica Ivana Pipponzi, uno studio professionale che ha una tradizione di 60 anni, perché anche il padre di Ivana era un illustre avvocato. Ho un altro sogno nel cassetto che sto, diciamo, accarezzando, è quello di fare il concorso di magistratura. Io poi non mi ritengo mai arrivata, non mi ritengo mai quella che si culla sugli allori, quindi mi piace sempre mettermi alla prova con nuove sfide. Se non ci riuscirò potrò dire almeno di averci provato, perché voglio dire, saltare così e provare ad arrampicarsi sulle stelle, magari non ci arriviamo, però possiamo avere la fortuna e la tenacia di trovare quella stella che tanto desideriamo, un po' più bassa e magari riusciamo ad afferrarla. Possiamo cadere, ci sbucciamo il ginocchio, ci rialziamo ancora più, diciamo, amanti e innamorati della vita di prima. Questo vuole essere il mio messaggio. Morena è innamorata della vita, è innamorata della mamma, ma di persone innamorate, di qualcuno, c'è l'amore per Morena? Ma allora io... No perché sei bellissimo, Morena. Grazie, sei troppo buono. Allora, io in questo momento della mia vita sono single, sono single, qualcuno dice per scelta di chi? Per scelta della vita. Sono una persona che non si accontenta nemmeno nei sentimenti. Credo che una persona debba uscire, io sto benissimo nella mia solitudine, perché poi alla fine, quando mi ritaglio, ho degli spazi di solitudine con me stessa e perché ho bisogno di ricarburare le mie energie, di fare quattro chiacchiere con me stessa, poi da buona capricornina sono un po' saturnina, quindi la solitudine non mi spaventa, mi ricarica. Quando arriverà l'uomo, con la O maiuscola, come dico io, sicuramente ci riconosceremo. Però la vita mi ha insegnato a non far dipendere la mia felicità, la mia realizzazione, dall'amore di un uomo, perché oggi c'è, domani non c'è. Quindi, poi gli uomini, alla fine siete molto egoisti, siete molto più vanesi di noi donne, siete concentrati troppo su voi stessi. Adesso tu sei il capo espiatore, visto che sei rappresentante della categoria, quindi ti sto flagellando. Per cui, alla fine... Prendo volentieri questo flagello. Sì, troppe... Troppe... Quindi, penso che il compagno ideale, per me, sarà l'uomo che, ancora prima di essere innamorato di Morena, debba essere innamorato in termini di grande rispetto anche del mio vissuto. E uomini così non ce ne sono tanti. Io ti voglio ringraziare, ti voglio ringraziare Morena, perché questa non è stata un'intervista. È stata una lezione alla vita che hai dato. Ed è stata, per me, dopo tanti anni di carriera, una delle più belle interviste che abbia fatto. Grazie perché mi hai insegnato tante cose oggi. Grazie a te, sei stato squisito, sei stato delicato, hai saputo toccare i tasti giusti per farmi raccontare in maniera serena. Buon lavoro a te e complimenti per come svolge la tua professione. Adesso andiamo a mangiare. Adesso andiamo a mangiare. Un saluto alla Calabria e un bacio a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti.